Il frutto della corteccia di Fabio Fabiano Capitolo 8 Il giorno dopo, Di Falco, Romano, Ombra e due poliziotti canadesi si recarono all'ospedale di Montaperto. Un nosocomio tristemente famoso per la malasalità che i poliziotti italiani conoscevano bene per aver effettuato indagini legate a una serie di reati tipo truffa aggravata, corruzione e altro contro la pubblica amministrazione. Soprattutto per appalti truccati. La presenza dei poliziotti preoccupò non poco l'addetto in portineria che informò la segreteria. Che devo riferire? Dopo aver preso istruzioni telefoniche, l'usciere informò. Sta arrivando un commesso che vi condurrà dal direttore. Dopo aver attraversato molteplici corridoi e scale, il gruppetto giunse dal direttore. Una persona distinta, con i capelli canuti, ma anche egli imbarazzato. Era probabile, temesse una nuova inchiesta della magistratura. Come posso essere utile? Abbiamo la necessità divisionale in registro dove 49 anni fa vennero registrate le donne che hanno partorito in questo ospedale. Spiegò Di Falco. Il medico neanche chiese il motivo di tale richiesta e ordinò. Signor Giuseppe, si metta a totale disposizione dei signori e mi informi se dovessero esserci difficoltà per la ricerca. L'impiegato invitò i poliziotti a seguirlo. Aperta un'enorme porta di metallo, il disordine fu indescrivibile. Il pavimento era sommerso da fascicoli, da cui uscivano incartamenti di vario genere e macchinari medici obsoleti e nuovissimi ancora imballati. Di Falco si improvvisò Cicerone per i colleghi stranieri. Queste macchine mediche mai usate saranno costate milioni di euro. Che spreco spaventoso. Per la precisione un milione e trecento. Ma solo dopo l'acquisto si scoprì che non era la norma. Spettegolò l'accompagnatore. In un armadio in metallo ecco dei registri e tanti classificatori. Quale mese aveva cercato? Chiese l'impiegato. Luglio, 21 luglio. Subito Romano precisò. Di Falco era indignato per lo stato di abbandono di quell'archivio. Andò colamente a una vecchia indagine condotta al fianco di un magistrato che, per il coraggio e per essersi messo contro alcuni potenti politici locali, aveva pagato a caro prezzo quell'impegno. A volte alla mafia non serve sparare per annichilire un solerze pubblico ministero. Non ha bisogno del tritolo. Basta muovere la pedina giusta all'interno del ministero e il gioco è fatto, pensò. Ecco, disse entusiasta il commesso. L'ho trovata, 21 luglio. In quella data hanno partorito tre donne. Adesso la fotocopio, così avete tutti i dati. Belone, sbottoso disfatto romano, confinto che da quel documento si sarebbe ricostruita l'intera vicenda dell'omicidio di Caro. A documento in mano, i poliziotti ringraziarono e ritornarono a bordo della loro auto. Di Falco ne approfittò per sbirciare i tre nominativi e sottolineò. Da quanto leggo, una di quelle pazienti partorì una femminuccia, le altre due un maschio. Una è nata a Montaperto, l'altra a Punta Bianca. La tizia di Montaperto, quando ha partorito, aveva venticinque anni. La seconda sedici. Per mio modesto parere, può interessare la seconda. Ha due importanti caratteristiche. È di un paese a una cinquantina di chilometri dall'ospedale. La sedicenne è probabilmente una ragazza madre, che per la giovane età può aver deciso di dare una nozione in nascituro. Mentre l'ispettore esponeva le proprie considerazioni, la radio di bordo gracchiò. Chiudi chiaramente la voce di Ferrisi, l'operatore radio del commissariato. «Attenzione a tutte le unità in ascolto! Sul viale Sciascia, segnalato un incidente stradale con ferito grave e traffico bloccato!» Istitivamente, Di Falco afferrò il microfono. Doppiavela ha ricevuto la nota. Essendo nelle vicinanze, si porta con sollecitudine. Chiedo autorizzazione per uso di dispositivi di allarme. Ombra, che conduceva il veicolo, non aspettò alcun permesso. Pinse il pulsante del bitonale ed attoccò il lampeggiante a calamita sul tetto della vettura civetta. Col classico testa-coda invertì la marcia e strapazzò i passeggeri. E si diresse al vicino viale. Mentre l'auto sfrecciava tra due colonne di macchine in senso opposto, arrivò l'autorizzazione richiesta via radio. «Doppiavela, siete autorizzati a fare uso di dispositivi di allarme!» «Procedete con sollecitudine!» «Il ferito versa in gravi condizioni!» «Ho allertato l'ospedale che sta inviando un'ambulanza!» Passarono meno di cinque minuti. I poliziotti giunsero in cima a una fila in viale Sciascia. Il traffico era completamente bloccato, in ogni senso di marcia. A distanza, di circa dieci metri dalla testa della fila, un drappello di persone sulla carreggiata. I tre poliziotti neanche si parlarono. Sembrava che ognuno sapesse esattamente cosa doveva fare. L'esperienza maturata e i lanni di servizio sulla strada li faceva muovere in perfetta sintonia. Romano scese dalla macchina, prese un kit di pronto soccorso e andò subito dal ferito. Ombra innestò una rapida marcia indietro e la vettura urlò sino al primo incrocio e deviò il traffico. Con la paletta selettrice, Di Falco andò in prossimità di una moto di grossa cilindrata, a pezzi, adagiata sull'asfalto. Ombra deviò il traffico per sbloccare la circolazione e agevolare l'arrivo dell'ambulanza. Di Falco fece spostare le auto che intracciavano. Romano, dopo aver fatto allontanare curiosi che circondavano il ferito, si incinocchiò e si accertò delle sue condizioni. Respirava a fatica e sembrava molto grave. Dalla bocca e dalle orecchie usciva del sangue e il poliziotto sapeva per esperienza essere un brutto segno, quindi lesioni interne. Lo confortò, offrendogli una mano, e l'uomo s'aggrappò. Di Falco urlaba per fare spostare le vetture dei curiosi. Con la radio portatile, Romano chiese l'intervento di un elicottero per trasportare in ospedale più celermente l'infortunato. Il ferito cominciò a rantolare. La presa si dissolse e Romano percepì che la vita aveva abbandonato l'incidentato. Da lontano si udivano i bitonali di altri mezzi di soccorso che giuncevano. La polizia stradale accertò che la causa dell'incidente mortale era da attribuire alla forte velocità e alla presenza di una buca dovuta a cattiva manutenzione della strada. Il commissariato si scoprì che il ragazzo era l'unico figlio di un noto avvocato, basato alle cronache per aver ricevuto compensi da parte del comune per consulenze alquanto discutibili. Proventi che associati ad altre spese inutili avevano causato il dissesto finanziario dell'ente e non permettevano al comune la regolare manutenzione delle strade. Osservò Di Falco. Sembra un maledetto regolamento di conti tra il destino e l'avvocato. Prima illecitamente lo fa arricchire e poi... Beh, non c'è peggiore condanna per chi contribuisce alla malversazione del denaro pubblico. Concluso Romano.